Valeria Marini, la morte del padre Mario l'ha devastata. Piangono tutti. Bella, esplosiva, sensuale e sempre con il sorriso sulle labbra. Noi Valeria Marini la conosciamo così da ormai oltre trent'anni. Erano i primi anni novanta quando questa stupenda ragazza bionda proveniente dalla Sardegna esordiva in prima serata con la compagnia del bagaglino. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora e Valeria Marini ne ha fatta di strada tra film, serie televisive e reality show. Negli anni più recenti l'abbiamo vista come naufraga all'isola dei famosi e poi tra i vipponi del grande fratello 2020. Valeria si è sempre contraddistinta oltre che per la sua bellezza anche per la sua personalità. Una personalità frizzante, spumeggiante, stellare come lei stessa direbbe, ma una personalità anche incredibilmente forte. Infatti la donna ha dovuto affrontare un grande dramma, la perdita del padre. Un dolore che l'ha devastata e che ha lasciato un segno profondo. Valeria Marini, la ferita più grande della sua vita, la bella subrette. Valeria Marini ha raccontato qual è stato il dolore più grande della sua vita, la perdita di suo padre Mario. Un dolore così profondo che ancora a distanza di anni Valeria si sente devastata. Vediamo nei dettagli che cosa è successo. Siamo abituati a vedere Valeria Marini sempre sorridente e spumeggiante, ma la verità è che c'è stato un grande dramma nella sua vita, la perdita del padre. Mario Marini è scomparso circa una decina di anni fa. Da anni lui e la madre di Valeria non stavano più insieme e per questo motivo la subrette si era trasferita a Cagliari insieme alla mamma e ai fratelli Fabio e Claudia. Mario invece era rimasto a vivere a Vignanello, un piccolo paese in provincia di Viterbo, nel Lazio, nonostante la distanza, Valeria e suo padre sono sempre rimasti molto uniti. Unione che non è stata intaccata neppure dalle divergenze di opinione quando Valeria, dopo gli studi, ha deciso di entrare a fare parte del mondo dello spettacolo. Papà Mario non era d'accordo e avrebbe preferito un'altra carriera per la figlia, ma non l'ha mai ostacolata. La subrette non parla mai della sua famiglia, ci tiene a mantenere il massimo riservo, ma qualche tempo fa, durante un'intervista, ha rilasciato parole molto dolci e le si sono bagnati gli occhi. Ricordando il padre, infatti, Valeria ha detto che era un uomo buono e benvoluto da tutti. La showgirl ha rivelato anche che lui avrebbe voluto che lei diventasse un'insegnante e non era molto convinto della possibilità di fare strada nel mondo dello spettacolo. Ma con il passare degli anni e osservando l'enorme successo di Valeria, papà Mario si è ricreduto e alla fine era molto orgoglioso della sua bambina.